La storia della follia è una storia che nasce in fondo con la Grecia antica, con l'Atene di Platone, di Aristotele, ma in questo caso soprattutto dei medici greci. E il primo che viene in mente è Ippocrate, il quale già pensava che i sentimenti, le emozioni e dunque il comportamento anche definito fuori norma, folle, dipendesse dagli umori del cervello e quindi che si dovesse guardare al cervello per capire che cosa l'uomo faceva, come si comportava. E questa è subito una delle linee che troveremo sempre poi anche nei secoli futuri. Però contemporaneamente nel tempio di Delfo c'erano le pizze, che erano delle malate di mente diremo noi oggi e di fronte a chi si rivolgeva a loro per sapere il futuro, per capire che cosa la vita per loro rappresentasse, entravano in convulsione, quindi avevano delle crisi probabilmente di tipo epilettico e che potevano essere lette e interpretate da un sacerdote che quindi proponeva poi la soluzione, dava risposta alle domande esistenziali dei fedeli. Quindi da una parte chi rimandava al cervello, agli umori, a se era caldo o freddo, e dall'altra invece un'atmosfera molto più misteriosa per cui la follia veniva messa vicino agli dèi che proprio attraverso il comportamento folle mandavano dei messaggi che i sacerdoti dovevano interpretare. Insomma, da una parte la follia come un cervello rotto, dall'altra la follia come la voce degli dèi. Ecco questo un esempio di come appunto la follia divenga interpretazione dell'uomo.